Intro Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio del nostro progetto giovani con l'MKDONS su FIFA 19 Oggi ragazzi ci giocheremo 3 partite, ce ne simuleremo 2 come sempre Partiremo contro il West Bromwich giocandocela così come contro il Reading Ci simuleremo quella contro il Derby County Giocheremo contro Val City e simuleremo quella contro il Norwich Allora siamo a 16 punti dopo una partenza disastrosa Siamo a meno 10 se non erro dal Brighton, anzi no a meno 11 dal Brighton Ci abbiamo perso contro il Brighton nello scorso episodio La formazione che scende in capo per questa partita è questa Con Mitchell, Park, Cameron, Ranieri, Lund, Varela, Ambarga, Zayac, Cruz, Dykstra e Suarez-Saffarelli Andiamo Il WBA gioca con Bond, Wilson, Fitzwater, Hawkins, Oshie, poi Tashdemir, Koopan, Morrison, Rodriguez, Zangyuning e Ward In attacco La nostra formazione già la conosciamo e tutto pronto Al Dio Thorns si parte per West Bromwich M.K. Donz, Suarez-Saffarelli subito 2 Il brasiliano Suarez-Saffarelli Suarez-Saffarelli Prende il palo Zayac da fuori Ancora Zayac Rimpalli su rimpalli Cruz la rende ancora buona per Embarga Varela da fuori E si salva ancora il West Bromwich Ma questo è l'approccio perfetto della partita Guardate i tiri 7-0 Il West Bromwich Zayac combatte Ma il WBA Il WBA In difesa alla meglio Suarez-Saffarelli Finta rientra Suarez-Saffarelli Tira centrale Quando l'aveva angolata sul primo palo Cruz Cross in mezzo a cercare Suarez-Saffarelli Che si può rifare Palla che viene allontanata Suarez-Saffarelli Finta Suarez-Saffarelli da fuori Bomba centrale Sarà corner Ma questo è l'atteggiamento giusto Cruz Cross in mezzo Forse un po' troppo dietro Daixtra non ci arriva Palla che arriva a Ranieri Che la controlla con la testa Poi lo prova da fuori Non è un tiratore Lunda E Lunda C'è il gol al cinquantottesimo Con Harold Lunda E finalmente Lemke Don se ne avanti Lunda che non segnava Da un botto di tempo Da tantissimo tempo Il norvegese Il nuovo Riese Trova un gol fondamentale Contro il West Bromwich Sicuramente una delle squadre Più forti del campionato Qui diventa un assist Il tiro da parte di Ranieri Perché quello era un tiro 1-0 per noi Rodriguez Non dobbiamo soffrire In questi ultimi minuti Rodriguez Ward Tashdemir Può metterla in mezzo Park Chiude tutto Park Poi perde il pallone Contro Tashdemir Ma ancora Park La mette in corner Al settantesimo È il momento di sostituire Zajac Che stanco Al posto suo Direi di fare entrare Lemont Che è molto rapido Quindi ci può dare una mano Nei contropiedi Perché adesso La dobbiamo impostare Sulla difensiva Questa partita Infatti Ci mettiamo proprio in difensiva Ok Perfetto Morrison Cross in mezzo Attenzione sul primo palo Bravissimo Varela Allottanare Cuppen Poi per Morrison Multi-region In questo West Bromwich Sbagliano tutto Qua possiamo ripartire Con Sorare Staffarella Che è veloce Per solo Uno contro quattro Praticamente Arriva Dijkstra E quindi si appoggia Verso l'olandese Dijkstra E stanca E stanca anche lui Rientra Ma sta facendo una partita Sensazionale Buona per Lemont Che la controlla Va da Sorare Sta fare il brutto passaggio E sarà rimessa Anderale per noi In posizione offensiva Al 75esimo Facciamo uscire Dijkstra E facciamo entrare Invece Dama Perfetto Che anche un 75 Sta veramente giocando Ai massimi livelli Dama Sta crescendo tantissimo E non ci può Che fare Che far piacere Una situazione del genere Adesso Cruz Varela Barga Controllo Spara da fuori In Barga Attenzione perché può ripartire adesso E West Bromwich Era un ottimo tentativo Quello Quello da parte di Barga Il problema Che il tiro era Centrale Troppo Sul portiere Ma poi In realtà ha preso Il difensore avversario in pieno Burke Appena entrato L'acquisto del Portsmouth Che non ha mai giocato Chi se lo ricorda Alzi la mano qua sotto Nei commenti Palla a lato Poi sul tiro Da parte di Rondon Uning Cross in mezzo Lund Bravissima Chiudere in corner Era l'85esima Aspettate un attimo Perché Mi sa Infatti Quella difensiva Io non capisco perché Allora io vado a salvare Nel menu principale Il modulo Difensivo Con Lund Terzino Eccetera In partita Quando lo metto Mi sposta Cameron Come terzino Ma mi succede anche Nella carriera Con il Crotone Con il Cosenza Credo che sia Un bug Che devono risolvere Ma non lo risolveranno mai Visto Vista l'attenzione Che danno alla carriera So resta a fare Verso da ma L'89esimo Da ma la deve tenere Rientra da ma E perde però il possesso Attenzione perché il West Bromwich Forse è un'ultima occasione Qui ci dobbiamo difendere Benissimo Perché Non sono Permesse Ripartenze Da parte del West Bromwich Qui si fa saltare Cameron Zhang Yuning Contro Ranieri Di fisico Ranieri La butta poi giù Palla verso Le Staffarella Che va verso Lemo Lemo la butta giù Verso Le Staffarella Palla che è troppo lunga Comunque Ma è finita la partita È finita Infatti al Dio Thorns Vinciamo Per 1-0 Contro Il West Bromwich Chobion Vediamo qualcosina di più Qua Ma i tre punti Ci sono E questo è l'importante Piccolo cambio di programma Ragazzi Allora In questo episodio Giocheremo solamente due partiti E ce ne simuleremo due Eh due Una Eh O due Vediamo un attimo Questo ammesso dal City Al City è diciassettesimo Quindi sì Ce ne simuleremo due In questo episodio Perché allora Sto registrando lo stesso giorno Il problema è che sono Le 7 di sera Io non ho il tempo materiale Per fare ciò Perché questa sera Non ci Non sono a casa E quindi non avrei Il tempo per montare Registrare Sì Registrare altre partite Renderizzare Eccetera Di conseguenza Io me ne gioco due Ne simulo due E facciamo Pace con il nostro cervello Ma qual è il problema principale Ma non ho avuto corrente Per tutto il giorno Praticamente La prima parte di video L'avete vista L'avevo registrata Verso le 3 E in questo momento Non mi ritrovo Alle 7 Che mi manca Più di metà del video Quindi Questo è uno Degli aspetti fantastici Della città di Roma Ma va bene così Allora Questa Credo che sia La formazione Che è confermatissima Perché comunque Viene da una partita Da una vittoria Contro il West Bromwich Ovion che è importantissima Perché noi siamo quinti In questo momento A 20 punti A Meno 9 Dal Brighton Quindi stiamo andando Molto molto bene Abbiamo raccimolato Due punti Dalla vetta Adesso Reading Con la stessa formazione Allora Reading Gioca con Mannone Gunther Perez Moore Poi Ullman Eriot Swift Kelly Barrow Bodvarsson E Novakovic In attacco Novakovic Se non erro È statunitense Come dicevo Attaccante Niente male Si parta Lo stiamo anche C'è Dijkstra Che ha tagliato Palla geniale Di Varela La gara Ciarua è stata attivata Adesso Dijkstra Che si mangia un gol Incredibile Al diciannovesimo Quanto siamo Spreconi Comunque Là davanti Eh Ma la gara Ciarua di Varela Si sta attivando Pian piano Palla per Barrow Contro Park La mette in mezzo Barro C'è il tiro E che cosa Stava per fare Qua il giocatore De Redding E poi c'è la rete Con il numero 10 Al trentunesimo Se avesse segnato così Bodvarsson Cadeva giù Lo stato Il settore ospiti Swift Porta in avanti Il Redding Palla per Varela Varela Si libera Varela E la palla Allato di poco Sembrava un tiro lentissimo Ma è stato precisissimo Questo tiro Guardate quanto era lento Tiro che però era preciso Ma non ne si deve distendere La palla è comunque Al lato di un centimetro Attenzione Punizione per noi Al cinquantunesimo Dalla mattonella di Lund Harold Ti prego Lund Lo prova E Lund E' il bomber Di questo episodio Al cinquantunesimo E' una unem Kedons Ancora Con il norvegese Che quando Calcia le punizioni E' sempre un pericolo Costante Per i portieri Avversari Guardate qua Perfetta La punizione di Lund Perfetta Gunter Swift Gunter Cambia tutto Verso Allman Controllo Buonissima Per Barrow Contro Park Passa Su Park Qua Barrow Cross in mezzo E c'è la rete Ancora Nuovamente Di Swift Swift al sessantottesimo E purtroppo Se fai marcare Swift a Varela Allora Ti vuoi fare del male Da solo Finisce qua Perdiamo 2 a 1 Contro il Redding Partita maledetta Questa davvero Peccato Perché non meritavamo Assolutamente Di perdere Assolutamente Partiamo Contro il derby Da simulare Allora Stessa formazione Delle scorse partite Contro il City Sicuramente Cambieremo Completamente Formazione Vediamo un po' Contro questo derby Come va Speriamo bene Lunda Monita all'ottavo Che è stato premiato Come giocatore Del mese Di ottobre Di settembre Credo Vediamo un po' Solare Staffarella Trova l'1-0 Al 34esimo Perfetto Vediamo un po' Damal Al posto di Zajac Van Derlin Al posto di Solare Staffarella Caneco Al posto di Branagan Carregno Al posto di Redli Ammonito Carregno De Naier Al posto di Holmes Daxtra 2-0 Vinciamo 2-0 Contro il Derby County Questi Sono tre punti fondamentali Perché siamo quarti Facciamo un balzo Enorme Ma siamo a meno 12 Dal Brighton Siamo a meno 12 Giocatore di Stabilito Comunque Come vedete Dave McKeith Mi sono scordato di farvelo vedere È stato in fortuna Per quattro settimane Con il bug Del primo del mese Purtroppo Non è stato tolto Come bug Allora Ci mettiamo qua Dangbo Lemo Poi Dama Assolutamente Al posto di Varela Delgado Al posto di Embarga Dias E adesso lo lascerei così Dai Andiamo a stimolarci Questa partita Contro l'Al City Da vincere Assolutamente Anche questa Senza se senza ma Vediamo un po' Come va Allora Ho fatto pure la rima Incredibile Leeds United Leeds United Norwich Huddersfield Una sconfitta Una vittoria Un pareggio Vediamo un po' Dama 1-0 Al 26 Usman Dama Il numero 19 Parca Monito Dias Monito Non rischiamo di farci buttare fuori qualcuno Delgado Per il 2-0 Al 54 Sì M'è entrato Van der Linden Entrato Dijkstra Al posto di Angbo E so Resto a fare L E finisce così Vinciamo 2-0 Contro l'Al City E si chiude in bellezza Quest'episodio 9 punti 4 partite Perfetto così Siamo terzi in classifica Sempre a meno 12 Al Brighton Che sembra irraggiungibile Attualmente Sembra veramente irraggiungibile Iventus 70 Questa Detto questo Noi ci lasciamo Ci vediamo in un prossimo episodio Bella